buongiorno a tutti buon venerdì un saluto affettuoso a quanti mi seguite a quanti fate parte della grande famiglia oggi riprendiamo la nostra attività insieme di preghiera e lo facciamo a partire dalle ore 18 con la celebrazione della santa messa e la via crucis che sarà animata dagli anziani e dai nonni con questo voglio invitarvi a pregare per tutti gli anziani che sono la parte più bella della nostra famiglia anche la parte fragile lo abbiamo visti in questa pandemia che sono stati e sono quelli più a rischio un bacio a tutti i nonni e a tutti gli anziani vorrei ecco insieme a voi pregare un ave maria la madonna per tutti gli anziani e per tutti i nonni e vorrei invitarvi ad unirvi anche spiritualmente con me in questo giorno nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen vi dono la benedizione il signore sia con voi vi benedica dio onnipotente padre e figlio e spirito santo ci vediamo più tardi se ci siete e se potete naturalmente un bacio a tutti